Ciao a tutti, oggi parliamo dell'Irlanda. Cominciamo con qualche elemento geografico. Ricordiamo innanzitutto che l'Irlanda è completamente circondata dal mare. Abbiamo già visto che il mare che la separa dalla Gran Bretagna è il Mar d'Irlanda e che la parte a nord, chiamata appunto Irlanda del Nord, appartiene al Regno Unito. Come possiamo vedere l'Irlanda è un'unica grande distesa pianeggiante con pochissimi rilievi. Pensate, il monte più alto, il Curran to Hill, arriva solamente a 1038 metri. Soprattutto al centro-centro-nord compaiono tantissimi laghi e torbiere ed i fiumi, pur essendo brevi, hanno una portata regolare. Il più importante, vedete, lo Shannon, che sfocia poi nell'Oceano Atlantico con questo estuario molto pronunciato. Il clima è sostanzialmente atlantico, quindi piuttosto piovoso. Non c'è una grande escursione termica. Grazie anche alla corrente del Golfo che riscalda l'Irlanda, le temperature in inverno non scendono sotto i 5 gradi, ma d'estate non avremo temperature caldissime, arrivando mediamente a 14-15 gradi. L'Irlanda è stata per secoli dominata dagli inglesi e si è resa indipendente solamente nel 1922, sebbene in un primo periodo dipendesse ancora dalla regina e facesse parte del Commonwealth. Solo nel 1949 è stata dichiarata indipendente dalla Gran Bretagna ed è diventata una repubblica con a capo un presidente. Gli irlandesi chiamano la loro patria Eire, nome che fa riferimento alla divinità Eriu, che aiutò i gaelici proprio nella conquista dell'isola irlandese. Gli irlandesi sono di etnia celtica, ma essendo stati per tanti secoli colonizzati dagli inglesi, parlano naturalmente anche l'inglese oltre all'irlandese. I segnali stradali sono bilingue, come vedete, in inglese la città che si chiama Kilkenny in gaelico è Silchenig, e così via. Ci sono delle zone, che sono queste, indicate con il verde, come vedete zone periferiche, diciamo così, sono le zone del Gieltec, dove si parla solamente irlandese. Una piccola minoranza sono i Travelers, che sono dei gruppi nomadi, di origine proprio irlandese, che fino a qualche anno fa vagavano con le loro carrozze, i loro carri a botte, mentre ora si spostano, un po' come tutti i nomadi d'Europa, su roulotte sgangherate. Pur essendo un'isola piuttosto grande, vanta solo 5 milioni di abitanti, con un' densità di popolazione piuttosto bassa, 70 abitanti per chilometro quadro circa. La lingua nazionale, appunto, il gaelico, l'irlandese, viene insegnata in tutte le scuole, ma, diciamo così, solamente il 39% della popolazione lo parla correttamente. Come dicevo prima, l'inglese è riconosciuto come seconda lingua ufficiale ed è fondamentalmente parlata da tutta la popolazione. Dal punto di vista economico, l'Irlanda aveva risentito tantissimo della crisi economica del 2008. Era stata infatti inserita tra i PIGS, i paesi che rischiavano la bancarotta. Avevamo già parlato di questo gioco di parole. PIGS è l'acronimo di Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna, ma significava anche PIGS, i maiali, in inglese. L'industria irlandese storicamente è stata sempre frenata perché ha poche risorse minerarie, poca produzione di energia elettrica e soprattutto il colonialismo britannico le aveva riservato solo il ruolo di esportatrice di prodotti agricoli. Quindi di riserva agricola che non doveva essere particolarmente industrializzata. Nonostante tutto, negli ultimi anni l'Irlanda è cresciuta industrialmente, soprattutto perché ha imposto una tassazione molto bassa alle imprese. Essa è diventata, un po' anche come l'Olanda, un paradiso fiscale per le multinazionali. Le multinazionali che hanno una sede in Irlanda pagano pochissime tasse. Non è un caso, e lo notiamo magari quando ci arrivano delle fatture, ci arrivano delle comunicazioni da Google, Amazon, Apple, Microsoft, che tutte le aziende high-tech abbiano la propria sede europea proprio in Irlanda. Il trifoglio è sicuramente uno dei simboli dell'Irlanda, sebbene il suo simbolo ufficiale sia l'arpa. Secondo la tradizione, San Patrizio lo aveva usato per illustrare agli irlandesi il concetto della Trinità. Padre, figlio e spirito santo. Uno per foglia. In realtà, San Patrizio non aveva inventato nulla, già dall'antichità, esso era un simbolo per i Celti. Infatti, i druidi celti lo utilizzavano spesso e pensavano che avesse proprietà curative da un lato e che il numero 3 fosse considerato sacro e avesse dei poteri magici, mistici. Si pensava anche che il trifoglio potesse avere proprietà profetiche, perché quando rivolgeva le foglie verso l'alto significava che il maltempo era in arrivo. E' stato, infine, il simbolo della ribellione e dell'indipendenza dalla Gran Bretagna, soprattutto sotto il regno della regina Vittoria. A puntarsi il trifoglio sugli abiti militari o civili era diventato proprio motivo di orgoglio nazionale. Era un modo per ribadire che si era irlandesi e non si era inglesi. Altro simbolo dell'Irlanda è sicuramente la croce celtica. Ideata da San Patrizio, come vedete, è una normale croce ma al centro ha la sfera solare. Si è detto molto di questa croce. Il braccio orizzontale rappresenterebbe il mondo terreno, il braccio verticale rappresenterebbe il mondo celeste e al centro il Sole fa da punto di intersezione dei due assi e diventa quindi il centro delle cose, il centro del mondo. Il punto in cui si incontrano la terra e il cielo, le forze umane e le forze divine, l'io, la natura, la saggezza, il divino. Altro tipico simbolo irlandese è l'epressione, l'eprecauno in italiano. È un celebre folletto, conosciuto anche come Leit Brogan. Il giorno di San Patrizio, la festa nazionale irlandese, molti lasciano un bicchiere di latte per lui sul davanzale della finestra. È un folletto ciabattino e si dedica spesso a fare gli scherzi, in particolare prendendosela con gli avari, i tirchi, e costruendo trappole geniali per i ladri. I lepercauni vivono in solitudine e pare appunto che custodiscono la famosa pentola d'oro che si trova alla base dell'arcobaleno. Il luogo di ritrovo tipico in Irlanda è invece il pub. Le persone non vanno solamente a bere, vanno a giocare a carte e alle immancabili freccette. Il pub non è frequentato solamente la sera, ma è frequentato per tutto il giorno. Al mattino ci si può fare colazione, a pranzo si gusta il pub grab, che fondamentalmente è una sorta di stufato, e alla sera ci si diverte magari bevendo birra. Nei pub spesso suonano i gruppi musicali e quindi è sempre aglietata l'atmosfera dalla musica. Il territorio irlandese è pieno di paesaggi mozzafiato. Ve ne riporto due, le scogliere di Moer e il Giant Coseweight, il selciato del gigante. Come vedete, Moer significa in irlandese antico scogliere della rovina. La roccia è alta più di 200 metri e si protende per circa 8 chilometri. Le acque dell'oceano si infrangono sulla roccia liberando lo iodio e quindi creando questa vaporizzazione, questa freschezza rigenerante. Dicono che trovarsi in cima alle scogliere di Moer dà proprio l'impressione di essere sulla prua di una nave. Ideale frequentarle al tramonto, da dove il panorama è assolutamente mozzafiato. Sebbene si trovi in Irlanda del Nord e quindi nominalmente nel Regno Unito, il selciato del gigante è comunque uno dei simboli dell'isola. Sono 40.000 colonne di basalto a forma esagonale che emergono dal mare. Ecco due immagini che ci danno proprio l'idea della loro particolarità. Gli irlandesi fanno risalire la sua nascita a una leggenda che narra che un guerriero gigante si fosse innamorato perdutamente di una gigantessa scozzese e che per raggiungerla avesse costruito questo selciato, questa strada di pietra. In realtà la scienza ci ha dimostrato che sono il risultato di un'esplosione sotterranea avvenuta 60 milioni di anni fa. La lava di basalto salì in superficie e si solidificò in forme regolari, quindi esagonali. Ultimo simbolo irlandese è sicuramente la Guinness. Una delle birre più famose al mondo è una birra stout, il termine con cui si definiscono le birre scure e corpose. Prodotta in Irlanda appunto dalla ditta del signor Arthur Guinness fin dal 1759. È una birra molto diversa dalle altre perché ha un colore scurissimo e un sapore amarognolo che deriva dalla tostatura dell'orzo. È un procedimento che è nato tra il 1600 e il 1700. Gli inglesi dicono di averlo inventato l'oro, gli irlandesi ribadiscono di essere stati invece i veri creatori della Guinness. Si dice che tutto sia nato in seguito a un incendio nel deposito di malto della Guinness. E Arthur Guinness, il fondatore, decise di non buttare via l'orzo bruciato, ma di provare a produrre comunque la birra. Tipica della Guinness è anche la schiuma. Una schiuma molto più compatta e molto più cremosa rispetto a quella delle birre normali. Il segreto è la spillatura con anidride carbonica e azoto. L'azoto praticamente non si disperde nel liquido e quindi non rende frizzante la birra che rimane ferma e quindi le poche bollicine creano una schiuma più compatta.